Ritornano i sapori che introducono l'autunno e ad inaugurare la stagione ci hanno pensato gli abitanti di Ficarazzi con la gustosa sagra dell'arancino, famosa per aver vinto il Guinness World Records nel 2007 per la realizzazione dell'arancino più grande del mondo del peso di 12 kg. L'edizione 2014 ha attirato i golosi della provincia etnea che hanno gustato i sapori tipici dell'arancino di Ficarazzi. Schierati accanto ai classici burro e ragù, hanno figurato gli arancini alla Nutella, al nero di seppia, al polpo, al pollo, il vegetariano e tanti altri. Provarli tutti è stata la sfida del pubblico della sagra. L'appuntamento enogastronomico si è arricchito di arte e musica con le performance dei ballerini Silvia Platania e Mario Napoli, secondi classificati alla Supercoppa Sicilia. L'attore comico Marco Mazzaglia ha coinvolto il pubblico in esilaranti gag che hanno conquistato la simpatia di grandi e piccoli. Manuel Sciacca dal programma TV Io Canto ha cantato un mix di successi di musica italiana. Nel 2011 il primato dell'arancino più grande del mondo è stato conquistato dal paese di Piedimonte Etneo con un arancino di ben 20 chili e 205 grammi. La futura sfida per i Ficarazzesi sarà tentare di riconquistare il Guinness World Record.